L'imprenditore Eleuterio Arcese, nei giorni scorsi, ha presentato un ricorso al TAR dopo essere stato condannato a pagare una multa di 450 mila euro per legittimare due abusi edilizi realizzati durante le operazioni di ristrutturazione della villa Belvedere di Laghel. Ciò che l'imprenditore contesta è l'entità della somma che non sarebbe stata, a detta dei suoi avvocati, calcolata correttamente. Questo spiazza l'amministrazione comunale arcense, la quale immaginava già di poter usufruire di quei fondi a fini pubblici. All'amministrazione ora non resta che aspettare la sentenza del ricorso prima di programmare eventuali opere pubbliche, tra le quali i giardini storici all'ex tennis, che gli ambientalisti e i cittadini chiedono a gran voce.